Io sono Ana Carotenuto, sono una biologa nutrizionista e collaboro con l'Istituto Dermoclinico Vita Putis fondato dal professor Antonio Di Pietro da diversi anni. In questo istituto in particolare mi occupo sia di quelle che sono le patologie dermatologiche direttamente correlate con la ditoterapia, quindi che possono migliorare o addirittura avere una vera e propria guarigione oltre che con la dermatologia anche con la terapia alimentare e ci occupiamo anche ovviamente della bellezza e del benessere del nostro corpo. Quindi prepariamo tutti noi alla fatidica prova costume con diete mirate come la dieta chetogenica normoproteica che viene utilizzata proprio per ridurre le adiposità localizzate nella zona trocanterica quindi sulle famose zone dei glutei, cosce, tanto di alto dalle nuove donne ma anche combattiamo la fatidica cellulite facendo un'azione combinata di dietoterapia e di microterapia di cui vi ha parlato sicuramente il prof.